Bella a tutti raga, qui è Miro e eccoci qua in questo nuovo video Finalmente, finalmente un giorno dopo in cui si goda ancora E' fantastico, è veramente bellissimo Continuo a mangiarmi le mani per non essermi goduto questa vittoria a pieno Perché come vi ho già detto nello scorso video purtroppo la partita praticamente non l'ho vista Ma va bene così, va bene così perché l'unica cosa che contava era portare i tre punti a casa E i tre punti sono arrivati, quindi tanto di cappello Poi nel video di domani analizzeremo comunque anche tutte le altre partite Cosa significa per il Cagliari aver guadagnato questi tre punti Vedremo la lotta per la salvezza Oggi però parliamo della partita di ieri Delle considerazioni un po' più a freddo Ed ho notato che vagamente me l'ero fatta anch'io come idea Però andando a vedere anche i commenti mi è stata confermata il fatto che ieri il Cagliari Ha vinto sì, ma a livello di prestazione e di giocare bene Diciamo che non ha lasciato contenti tante persone Ma secondo me ci può anche stare, ribadisco, non bisogna per forza vincere e convincere Ci sta, ci sta perché comunque stiamo affrontando la squadra più in forma del campionato Per lo meno di quelle che lottano per non retrocedere Veniva da un filotto di partite consecutive in cui non perdeva Stava giocando bene E noi comunque venivamo dal pareggio sofferto col Napoli E noi giocavamo in trasferta, loro giocavamo in casa Comunque anche volendo ci sono diciamo delle attenuanti Che possono giustificare in qualche modo il fatto che il Cagliari a livello prestazionale Sia stato tutt'altro che bello Però va bene così Va bene così perché preferisco vincere giocando male Piuttosto che perdere giocando bene Specialmente in questo punto del campionato Non me ne faccio niente sinceramente Di una partita giocata magistralmente Se poi non mi porta punti Per carità E' bello vedere il Cagliari giocare bene Ti dà soddisfazione Tutti siamo reduci dal primo tempo con Napoli In cui il Cagliari ha fatto quel cazzo che gli pareva praticamente E ci sta, lo capisco Però Andarsi a lamentare Del fatto che il Cagliari non abbia giocato bene questa partita Ci può stare ma dobbiamo farlo con cognizione di causa Tra l'altro bisogna anche tenere da conto Che buona parte della partita Poi l'abbiamo giocata senza uno dei giocatori offensivi Che ci poteva dare più margine di manovra che il Luvumbo Nonostante ci fosse Gaetano in campo L'assenza di un contropiedista come il Luvumbo Può causare problemi Però Fortunamente E' andata tutta come deve andare Mi riallaccio a quello che ho detto ieri Per chi magari non avesse visto il video Io penso che Si sta capendo sempre di più Quanto sia importante Scuffet Scuffet Anzi Giocatore veramente Fantastico E' un portiere Che banalmente Sa fare quello che è il suo mestiere Ovvero fare il portiere Purtroppo venivamo da anni in cui I portieri stavano deludendo Trasciando l'anno scorso Inbigo Radunovic Però In linea di massima si può dire che effettivamente Il portiere sia sempre stato un problema Abbastanza grande in quel di Cagliari Che non riusciva a trovare Una soluzione Che non trovava mai un interprete Che potesse garantirti Quello che un portiere ti deve garantire Sicurezza e affidabilità Scuffet lo sta facendo Io Sono sicuro Cioè io con lui veramente sono sicuro Ha fatto delle paratone impressionanti ieri Veramente fantastiche Portiere fantastico Io non ho nulla da chiedere in più Scusate c'è la caramella Perché veramente Uno come lui Ti cambia La squadra Completamente E ribadisco anche il fatto che Molti potrebbero Non potrebbero includere il portiere Nelle gerarchie Però Visto Come sta andando il calcio moderno Le gerarchie partono anche da lì Il portiere ormai è sempre più Parte integrante Di una rosa Non è semplicemente un uomo Messo lì a difendere la propria porta Quindi secondo me Lui è il primo Della gerarchia È quello che non deve mai mancare E non mi aspettavo Sinceramente A quest'estate Che potesse avere Un impatto così importante Con Con la serie A Era da anni che non la giocava Ha giocato in conference Ha giocato in Europa League Sicuramente Però non mi aspettavo Che potesse essere così Così importante Non me lo aspettavo minimamente E sono felice di questo Perché ci sta creando Una sorta di effetto tranquillante Perlomeno a me Perché veramente Ti mette sicurezza Poi Se unisci a scuffè Il fatto che tu Là davanti Hai mina Anche lui È l'ultimo Che mi aspettavo Potesse fare bene Io Paradossalmente In difesa Sto pure abbastanza tranquillo Mina è un trascinatore È un elemento fondamentale Fondamentale Era quell'uomo Di cui effettivamente Avevamo bisogno Che a Cagliari Ancora non c'era Perché per carità Dostene è un ottimo centrale E me lo direi tutta la vita Però L'impatto che sta avendo Mina A livello caratteriale È un qualcosa di impressionante Gestisce la difesa Va a rincuorare i compagni È entrato subito A pieno Nel progetto Scusate Se progetto Si può definire Però comunque È entrato a pie pari Nell'ambiente Cagliari Si è immedesimato E Io penso Che sia difficile Anche non affessionarsi A A giocatori simili Veramente Tanto di cappello A mina Anche perché Si sta dimostrando Comunque Un difensore Fantastico Sui corner avversari Specialmente Contro l'Empoli Le prendeva tutte De testa Quindi anche lì Sicurezza difensiva Certo È un po' lento A volte Però va bene Ma a me n'è così Non Se era un centrale Perfetto Stiamo a giocare Corio Ferdinand Però Ci può stare Ci può stare Che anche lui Abbia delle pecche Quindi Per carità Dicevo Ieri non mi è piaciuto Per niente De Iola Continuo a non piacermi Non so se magari L'ho vista male io O Chissà che cosa Però In alcuni frangenti Di partita L'ho visto Fare dei passaggi In In una maniera Che mi verrebbe da dire Imbarazzante Perché sembrava Andasse A un ritmo Che era Cinque volte più lento Di quello che era La partita Mi sembrava Veramente lento Macchinoso E soprattutto Prevedibile Molto Molto Prevedibile Non mi è piaciuto Per niente De Iola E Non capisco Perché non abbia Giocato un Prati Non abbia giocato Un Sulemana Li avrei visti Molto meglio Rispetto a un De Iola Ieri Augello Rischiava di fare Un'altra volta Lo stesso errore Se non mi sbaglio Nel primo tempo Lo stesso errore Fatto con Napoli Però fortunatamente Andrà bene Poi che altro C'è da dire Sulla padula Confermo Quello che ho detto Nel video precedente Ovvero che È in palla È in forma Vuole trovare il gol Si vede Le ha voglia Di segnare E io di questo Sono più che felice Però Rimane Il problema Che a lui La palla Non arriva E lui Non fa niente Per andarsela A prendere La palla Che è un problema Diciamo Abbastanza importante Perché Perché poi È chiaro Che non segni Shomurolov È rimasto Lo stesso Cioè Non è che è cambiato Dopo l'infortunio È rimasto Lo stesso Incrociamo Le dita Per l'umbo Speriamo Che non sia Niente di grave Non so nemmeno Se è uscita Qualche notizia Chiuso il video Mi andrò a informare E poi Che altro C'è da dire Ah Su Ranieri Non mi sono piaciuti I cambi Non mi sono piaciuti Per niente I cambi Non ho capito Perché è entrato Zappa Al posto Del mumbo Non ho capito Perché so tornare In campo Azi Vietesca Tra l'altro Con Vietesca Che poi Ovviamente Non proprio Vietesca stesso Però il cambio Di per sé Ha costretto il Cagliere A giocare Gli ultimi minuti A 5 E a me Questa cosa Non mi piace Perché Sostanzialmente Sui finali Di partita Più cerchi Di difenderti E più aumenti La mole Difensiva E raramente Più riesci A contenere Il risultato Fortunatamente Questo è stato Uno di quei casi Ma non sempre È così Però Buon per noi Ha funzionato Però continuo A non capire I cambi Questa volta Veramente Non li ho capiti Poi non mi ricordo Manco Chi altro è entrato Sto andando Veramente Così A Tastoni E Che altro C'è da dire Mi pare Questo Confermo Valuchievic Cuore rosso Blu Grande Valuchievic A me Va benissimo Che ci Continui A favorire Evidentemente Gli siamo Rimasti Impressi E lui Rimarrà Impresso A noi Se continua Così E la cosa La cosa bella È che lo fa Da giocatore Avversario E non Da nostro Giocatore Ah ecco Un'altra cosa Che volevo Dì Magumbu Io Non so Voi come Riteniate La prova Di ieri Di Magumbu A me è piaciuto Tantissimo Però Incomincio Anche A capire Il motivo Per cui Possa dare Fastidio Però Non è un problema Su Perché Molti Si ostinano E alcune volte Hanno ragione A dire Che Magumbu Tiene troppo Il pallone Fa troppi giochetti Rischia Di Tenendo troppo Il pallone Di regalarlo Agli avversari E io ieri Ho detto Cazzo È vero Hanno ragione Chi lo dice In determinati Contesti Ma vi siete Chiesti Perché Cioè Io Vedevo Magumbu Che teneva Il pallone E non c'era In primis Nessuno A fare lo scarico Nessuno Nessuno E secondo Non c'era nessuno Che faceva movimento Senza palla Perché ovviamente L'Empoli Andava a marcare A uomo Con gli uomini Tutti marcati Comunque I nostri Non facevano Modo e maniera Per smarcarsi Ed è chiaro Che poi Magumbu O è costretto A giocare Il pallone Cioè A tenere troppo Il pallone Per aspettare Qualcuno Che faccia Movimento E si libri Nella marcatura Oppure Deve Buttare Tutto alle ortiche E ricominciare Da dietro Purtroppo È così Se non c'è Nessuno Subito Su cui Passare Il pallone O su cui Fare uno Scarico Le altre opzioni Sono quelle Deve Per forza Tener il pallone Oppure Scaricarlo Dietro E lì Incomincia Ad acquisire La logica Di quello Che fa Magumbu Ultima cosa E poi Concludo Il video Sul gol Di Yankto Trasciando Che sono Veramente Contentissimo Che abbia Fatto gol E che Credo Incomincia A ritrovare Morale Perché Anche prima Del gol Mi è Sembrato Veramente Molto Nervoso Yankto Forse Sapeva Che sta Rendendo Meno Di quanto Dovrebbe Di quanto Potrebbe E quindi Yankto Usato Un po Un po Il colpo E Trasciando Che Contegua Non capire Perché Su quella Palla Lui ci Si è Andato Di sinistro E non Di destro Ma va bene Così Perché Comunque Ha segnato Come L'ha Fatto Il gol Io mi sono Andato A rivedere Un attimo Gli highlights Ed è Molto Molto Interessante Perché Yankto Era Diretto Sul Secondo Pallo Inizialmente Poi Quando Ha Visto La Palla In Mezzo Fortunatamente Ha Indietreggiato E Si è Tenuto Lì Per Un'eventuale Seconda Palla Cosa Che Poi È Stata Perché Ribattuta Di Caprile Lui È Lì E Insacca Tranquillamente Ed è Quello Che Dico Io Sui Cross Sui Tiri Sui Calci D'angolo Sui Calci Piazzati In Generale Ma Ci vogliamo Posizionare Meglio Con Con Le Seconde Palle Perché Dobbiamo Sfruttarle Perché Col Fatto Che Non È Detto Che Il Primo Tiro Il Primo Cross La Prima Qualsiasi Cosa Possa Andare Bene Ma Cazzo Aumentiamo La Presenza Dei Nossi Uomini Lì Cerchiamo Di Massimizzare Tutte Le Occasioni Janto Lì È Stato Furbo Agito Di Furbizia Ed È Così Che Io Voglio I Mie Uomini Furbi Bisogna S Furbi Fortunatamente È Va Va Bene Così Va Bene Così Ora Testa Salerno Perché Testa Testa Alla Salernitana Io Mi Auro Che Possiamo Fare Bene Le Potenzialità Ci Sono Perché Comunque La Salernitana Sta Facendo Male Però Di Quello Ne Parliamo Domani Detto Questo Il Video Ragazzi Finisce Qui Fatemi Sapere Qua Sotto In Commenti Cosa Ne Pensate E Detto Questo Noi Ci Becchiamo In Un Prossimo Video Bella